Un saluto a tutti e bentornati su Zath Factor E eccoci su The Witcher 3 Wild Hunt Siamo pronti con l'attacco finale a Erdy Dobbiamo solo preparare le ultime cose Dobbiamo trovare gli ultimi membri della loggia delle maghe Cioè Filippo e Margarita che ci possono aiutare nello sconfiggere appunto la caccia selvaggia E poi aiutare Siri a ringraziare tutti quelli che l'hanno aiutato a Novigrad Iniziamo con l'aiutare Triss Vediamo dove si scende Ciao Triss Hai perduto la mente? Hai perduto la mente? Hai venuto a Imlarith per te stesso? Al sabato? Come puoi mettere a Siri in danger? Siri ha dovuto farlo Non potrei lasciare solo Tu avessi fatto lo stesso in miei bambini Inoltre, io ero l'ora tutto il tempo Avevo la situazione sotto controllo Prendiamo se cambiare il tema Cosa 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 Filippa ha fatto una fuga di lui. Arthur fu fuori per la rivela. Si ha convenuto che sia più sicura come una uova. Si trasforma e ha posizionato una bandiera di meridio sulle. Il mage hunt ha fatto iniziato a breve. Sbagliato, Arthur fuori per la loro. Si accionarono il suo estate. Si è vero che un certo dorovene di noi stai accionato. Zoltan... Huh, quindi Filippa era qui sotto le nostre nozze il tempo? Era, apprezzato. Zoltan ha perduto a un gioco card game... Oh, cazzo. Who was it? Know where he lives? He's not from here. No one knows him. Great. We got any leads? We have this. That Philip of the Owl's Feather? Thinking divination? Specifically hydromancy and a form of sword village. We need a fountain where we won't be disturbed. I'm done. One outside the Passiflora could work. Good idea. Let's go. We're here. Nice and quiet. Shouldn't be any disturbances. Let's begin. Observe the water's surface carefully. We can't let anything go unnoticed. Graham. Graham. We're. Robert. We're. We're. Graham. We're. 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 Let's go to the bathhouse. Might not be too late. Come on. We're. We're. I hope we get there in time. I hope Deekstra hasn't already hurt her. The possibilities are many. Could be Deekstra that got hurt. Not likely. Deekstra never forgave her for sending assassins after him. And Philip is weakened. No doubt about it. Weakened, maybe. Sì, è ancora un po' di sorcero. Se Dijkstra's men prendere il dimeridium di Dijkstra, Filippo'll'll kill them before they can say, oh shit. Sì. Sì, Filippo. Cuts. Sì, questo paio è un po' di mazza, tu non puoi mai fuori. Goddamn fools! After her! Ci faremo questo. Oh no, no, no! La Sorcero resta qui. Siamo insieme. Non c'è una chance. Eh, ti faccio fuori. Sono troppo condiscendenti, ho comunque per la mia busta. Sì, diroprio, la della della crisi in Cusa. Oh no, ci faccio fuori. C'è un po' di tempo. C'è un po' di tempo di che la faccio fuori. C'è un po' di tempo che faccio fuori. Oh, no, c'è un po' di tempo! No! No, stupido! bravo bar Bravo Bart! Ho voluto a te aiutare! Mi aiutare a merti? Voi scegliere? Sveglia a te obedient! Si! Filippa, Ii, ai sui! Non sto facendo a te aiutare! Bolo! Non tu mi aiutare! Ho voluto a te aiutare! Ha! Mi mi aiuto che facendo solo, non ti credo. metà il foglio Sì, vabbè ooo o Ahi 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 Ahhhh! Stoppare di sguardo. Se volevo uccidere, tu sarei morto per ora. Oh, cosa vuoi? Per tormentare me? Per guardare altri? Per bisogno di te. Ho bisogno di te. Oh, si calma. La mia moglie è arrivata a Dijkstra, ma la mia moglie arriverà con me. Dijkstra, non ho tempo per questo, fuori dalla mia. Non ho paura con te, Geralt, ma io e Phil abbiamo molti a parlare. Ricordi i assassini che hai sentito a me, figlio, Phil. Un'errore. Un'errore. Ci sono dei sottotitoli, come dovrei dimostrare. Ora, devo dimostrare. Mi ricordo di te, piccola bond, ma non è tempo per un cuore di amore. Ma è un momento ottimo per ottenere una scena. Filippa potrà venire con me e rispondere per tutte le cortesi che mi ha pagato. Sempre conosco la valutazione di informazione, Dijkstra. Perchè non credo che hai qualcosa che non già conosco. L'Empereo di Milfgaard non potrà riusciare la corporazione di trade. Opposizione che si tratta nella sua assa, eh? Hmm, sembra che la White Flame non potrà riusciare sui solle più lunga. La sua figlia è riuscita. L'Empereo voglia di abdicare, giverà la throne. Cirilla? Impossibile. Questo... Questo può cambiare la tida di war. Provide, ovviamente, che non si tratta. L'Empereo stesso mi ha detto, quindi, informazioni firsthand. Amir è un uccolo. Quando si tratta della sua figlia, non lo scopo. 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 Ok. Come ho pensato ragazzi penso di fare il video anche di Siri dai, così almeno se facciamo solo missioni principali facciamo anche questa Che ci fai Yann a far volare sti cosi? Buongiorno Buongiorno I'm afraid the dishwater's as good as it gets in this establishment. Imlarith, was that your idea or Siri's? Siri's? As I thought. I'm glad you went with her. I thought you'd be angry. Angry? Why? Because you supported Siri in her decision? Or because you fought by her side and won? What if we'd lost? We wouldn't be having this conversation. And the female part of the continent's population would be drowning in tears. No point bothering with what ifs. Hmm. Charming place. Why are you here? You'll find out soon. In the meantime, tell me about Philippa. Triss and I found her and freed her. It turned out Dijkstra had her, but the situation's under control. That's a relief. So, gonna tell me why you're here? I was able to establish Margarita's whereabouts. The prison in Oxenford. I also learned the identity of the man who escaped from there. He should arrive shortly. What do you know about this fugitive? I know he's the only one ever to escape from Derhard. Every guardsman in the city now seeks him. Sure he can be trusted? We'll soon find out. He just walked in. The Capelli Bianchi The Barbania The Who's asking? Sì, vorremmo parlare. Il meglio di correre e prenderlo. Sì, non c'è un po' di riuscire. C'è un po' di riuscire. Ma ho detto che ho trovato, non c'è che ho parlato con lui. Ma cosa vuoi da me? Devo essere! Si, calma. Ci vogliamo solo parlare. E poi mettere un po' di mezza tra le mie. Lecci me in la gatta. Guardiamoci. Ci sembra di essere dei banditi? No, non realmente. Non c'è un po' di riuscire. Inoltre, tu dovresti essere trattati a noi. Quindi, non mi perdere? Non. Tu ti racconti la tua storia, e poi vieni a te. Sì, così è. Ma dovremmo tornare a casa. È unilassimo per rimarrere in la strada. C'è un po' di riuscire. It'll help Thanks What do you want? To get into Daerod Find a hunter Tell them you practice magic They'll lock you up like at his split We need to get in without anyone noticing Tell us how you escaped Then get on with your life They say no one gets out of Daerod alive Aye, so they say My thought? Why not try? But they burn the corpses They didn't start burning them until they learned an old fellow like myself had escaped Before, they dropped the stiffs into a great pit The pits connected to the sewers And the sewers are in the middle Until you reach the river, you're as free as a fish So theoretically we could get in the way you got out Assuming we don't mind the company of decomposing corpses And assuming you can squeeze through the grate They barred the outlet to the river after I escaped Huh? Explosives could take care of that? For half the city to hear us? I have a better plan Oxenfort was built on Elven ruins Which have to connect to the sewers somewhere If we can find a way into the ruins We'll get into the prison They say that Daerod's better guarded than the keep at Vicovaro They choose the guards from among witch hunters The worst dregs Rabbit fanatics If you only knew what they'd do to folk Torture every day The wheel, the rack We only knew peace on holidays When they'd drink themselves blind They're allowed to drink on duty Not, not officially, but you know how it is See? Wasn't so hard One last bit of advice Find a new tavern Everyone here knows you Thank you Whatever your plans I hope they work out So do we So long Allora What he said about the guards Could prove handy True Things will go more smoothly If we can get even a few of them drunk Zoltan ought to manage it I'll ask him Let's meet on the Oxenfort Bridge Ok, andiamo a parlare con Zoltan Find a way in Several Nearest is through a well not far from here Did you arrange any help? We'll manage on our own Shall we begin? Let's do this Ok Sure the guards don't know about the passage through the ruins Have it planted sentries there? They haven't How can you be sure? Novograd's Hierarchs have taken great care to eradicate any and all memories of the city's elven roots Even if anyone remembers the ruins are there, they have no recollection of how far and where they extend And I'm absolutely certain no one's thought to place sentries there Hope you're right Here we are This is it? Polder was plugging the well until recently Due to an edict Hemmelfart issued some years ago But I managed to find two brawny and obliging passers-by who agreed to remove the impediment For a modest fee naturally For a modest fee naturally Here What is this? Use it once you find Rita I'll be able to pinpoint your location I'll be able to pinpoint your location See you inside then See you inside then Good luck Wet clothes I only noticed that it was open non è un'altra cosa l'ho qua non c'è un'altra cosa c'è un'altra cosa c'è un'altra cosa c'è un'altra cosa e 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 cazzo cazzo se me ha son vista brutta pagai o margarita o 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 È fascinante. Sto facendoci fuori da qui. È semplice. Non avremo mai avuto senza la chiamata. La chiamata è in ogni momento. La chiamata è all'interno. Voi tornare. ... ... ... ... ... C'è un'altra cosa? Non mi piace portali, andiamo! Il re della caccia selvaggia Sto registrando, quindi se non vi mettete davanti Non lo so, vabbè A parte questi maleducati, ragazzi Concludo il video, un saluto a tutti Spero che vi sia piaciuto E al prossimo video di The Witcher 3